C'è una proposta di legge ferma al Senato sull'introduzione dell'educazione alle competenze trasversali e all'alfabetizzazione emotiva nelle scuole. È ferma lì, dovrebbe esserci una sperimentazione per introdurre un'ora in questa materia, proprio intesa come materia scolastica. È importante perché come Caritas noi facciamo una proposta alle scuole, sia per l'appunto di ogni ordine grado, a partire dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, proprio perché per noi come Caritas è importante avere, nel senso che il compito di Caritas è una funzione pedagogica, quindi accompagnare anche alla scoperta delle proprie risorse. Quindi per quanto riguarda le superiori viene proprio messa, inserita all'interno dei progetti di PCTO, che sono proprio dei progetti per la scoperta delle proprie risorse e le competenze trasversali. Quindi che cosa si fa? Sono dei progetti innanzitutto lunghi, di 30 ore che noi proponiamo alle scuole, dove si accompagnano i ragazzi, gli adolescenti ad ascoltarsi, cioè come cosa primaria, ascoltare sé, ascoltare i propri vuoti, le proprie paure, le proprie emozioni, imparare ad accogliere, perché le emozioni se ci sono vuol dire che sono importanti, vanno accolte, sono adattive, però appunto poi di conseguenza poterla affrontare insieme, anche perché non tutti i comportamenti invece sono accettabili. E quindi il lavoro che si fa anche con i ragazzi in questi progetti è l'andare alla riscoperta delle proprie risorse personali da poterle mettere in campo, ma anche tutto lavoro sull'empatia, cioè il fatto di riconoscerci simili, ma allo stesso tempo unici, però con delle storie che sono intrecciate, perché per noi lo sviluppo anche dell'empatia, soprattutto poi quando vengono nei nostri servizi per fare la parte pratica, è per loro anche un incontro importante. Tu come vieni ragazzi, cioè rispetto anche ai fatti che stiamo leggendo, dove l'età si abbassa sempre di più, anche della violenza di genere che non per forza deve sfociare grazie al genere in un femminicidio, come abbiamo visto in questi giorni, però il controllo, il tentativo di controllare l'amica o la giovane fidanzata e anche dall'altra parte questo accettare in qualche modo, no? Che esista un controllo, che esista quasi un po' a volte una sudditanza, cioè come vedi i ragazzi nei confronti di questo mondo e anche delle differenze di genere? Allora, da un lato vedo un ripiegamento su di sé, nel senso che molto spesso li vedo che sono un po' chiusi in una bolla, ma con tanto bisogno poi in realtà di un'apertura di questa bolla, c'è anche nell'incontro. Hanno bisogno sicuramente di una guida, cioè di una guida che li accompagni e li accompagni per non dargli delle risposte, qua lo sto assolutamente, ma accompagni a trovare loro e fare una riflessione su queste tematiche perché appunto c'è, questa problematica a volte emerge, anche proprio il fatto della paura, del controllo, dell'ansia e anche proprio sta emergendo anche in questi giorni, no? In alcune classi mi è capitato appunto di ascoltare il fatto di uscire da delle relazioni tossiche, no? Quindi di fare un confronto anche su questi temi perché non ci sono spazi magari di ascolto e quindi come adulti, sia come formatori, che genitori, che insegnanti, secondo me il nostro ruolo è proprio quello di far emergere, accompagnarli e essere un po' da guida, no? Perché c'è molto smarrimento, cioè noto un po' questo. Poi ci sono invece tante bellezze, tante risorse che possono tirar fuori, no? E secondo me è un po' questa la chiave, no? Cioè per scoprirsi e poterle mettere anche in gioco. Secondo te è chiaro al mondo degli adulti che questa per i bambini, pre-adolescenti e adolescenti giovani è una necessità, è qualcosa di imprescindibile o sì è un accessorio che mettiamo lì adesso perché ci sono stati dei fatti particolarmente gravi e allora cerchiamo a partecipare. Non so se sia chiaro, cioè nel senso che noi lavoriamo tanto sia con gli insegnanti ed è un bisogno sempre più emergente dal Covid, nel senso che queste anche ore di alfabetizzazione emotiva le abbiamo introdotte poi nel 2020-2019. È un lavoro perché è faticoso lavorare su di sé, quindi insomma se non c'è un po' l'impegno di tutta la comunità educante si fa un po' fatica, secondo me adesso si è un po' più consapevoli dell'importanza quindi la mia speranza è che ci sia proprio una figura che possa dedicare un'ora all'educazione emotiva all'interno delle classi come ora curriculare di lezione perché è un'ora all'ascolto dei ragazzi, perché non può essere delegata come attività accessoria pomeridiana, cioè deve essere secondo me proprio un'ora di educazione all'ascolto di sé e alle pazioni.